E' inarrestabile la macchina da punti Prometeo-Estra-Arieti, che prosegue la sua scalata alla Serie A2. Contro Eurobasket Roma, partita giocata in casa di fronte a 2.500 spettatori, i ragazzi di coach Nunzi hanno applicato alla perfezione il piano partita, producendo moltissimo anche in attacco. Una schiacciata di Spizzichini costituisce l'esordio casalingo della NPC in gara 1 di finale play-off, in un Palacio Giurner pieno all'inverosimile subito 2-0 e la potenza del gesto atletico di Rieti sembra già rappresentare il mood della serata. Segue subito un canestro di Rosignoli, cui replica Righetti, ma la tripla di Stanic aumenta il vantaggio a Maranto Celeste e nonostante il canestro di Pullazzi, Iannone allunga il divario con una bomba. Con altri due punti di Stanic siamo 12-5, a 5-35. Una partenza perfetta. Il ritmo della gara viene spezzato dagli interventi arbitrali, ma Rieti non ne risente. Giampaoli mette la tripla e Rieti va a 20-8. È un buon momento, Spizzichini esce dall'aria e assegna anche lui da tre punti. Siamo 23-8 quando mancano 2-44 al termine. Il primo quarto finisce nettamente in favore di Rieti, 27-14. Il secondo tempo si avvia ancora con un canestro a Maranto Celeste, cui risponde una tripla di Casale. Due bombe consecutive di Giampaoli ricacciano indietro ogni velletà capitolina, 35-17. Roma prova qualche tiro da fuori, che però non riesce a concludere. Rieti recupera, difficilmente concede seconde occasioni e finalizza prima con Felici Angeli e poi ancora con Giampaoli. Siamo a 40-17, a 6-2 dal finale. Ad infierire su Eurobasket, che cerca ma non lo trova alla via del canestro, arriva la bomba di Capitan Granato, a cui risponde Scarponi, 43-20. Un'altra azione è da tre anche per Spizzichini, che segna un canestro più tiro libero. La curva intanto intona Cori, mentre le due tribune sottolineano con gli applausi le belle giocate degli uomini di Cattani. Un ispiratissimo Stanic segna ancora da tre. Manca poco alla fine. Infatti l'ultimo quarto comincia con un canestro di Stanic, seguito nell'azione successiva da Felici Angeli e dalla bomba di Capitan Granato. Subito anche la tripola di Giampaoli. E' questo il deciso contro Tybrek, che riporta Rieti sul più 32 a 7-35 dal termine. Nell'azione successiva è Rosignore da andare in lunetta per segnare 1 su 2. Di là intanto si continua a sbagliare. Rieti costruisce i suoi tiri ed ora va a segno con Granato, che poi va a recuperare palle e segna nuovamente in contropiede. Il risito finale ormai è a favore di Rieti, che chiude la prima gara con il totale di 84 a 50. Sul piano tabellino di marcia giovedì si ritornerà in campo alle 20.30 per una gara a due che probabilmente risulterà molto meno facile.